ben tornato sul canale nuovo video svolto alla spesa incominciamo col tonis allora abbiamo preso pomodorini a ciliegina una confezione di fichi delle banane poi limoni poi delle percoche dei kiwi poi una vaschetta di basilico cresco dello zucchero poi una confezione di mozzarella e due gassose per il momento è tutto ragazze al prossimo step ciao ragazzi bentornati sul canale nuovo spezzone si vuota la spesa al deco allora prima di tutto sono passati dal panicchiere abbiamo preso un pezzo di pane poi al deco invece abbiamo preso una busta di patate della pai poi una busta cioè una confezione di tè alla pesca san benedetto poi una confezione di latte scremato due confezioni di bella napoli che erano in offerta e ne escono due quindi due confezioni questi qua della russo che sono in mezzanelli una confezione di dado classico infine ho preso una confezione di spontex per la cucina questo è quanto al prossimo step ciao ragazzi per tornare sul canale oggi nuovo video svuota la spesa spesa per quanto riguarda doggy nuovo spezzone allora abbiamo preso il bitter bianco poi abbiamo il prosciutto cotto poi delle banane olive nere pomodorini a ciliegina un paio di gassose no una sola una gassosa una confezione di latte parmalatte puro blu poi delle mele delle albicocche no che sono delle pesche delle peccocche poi dei limoni una birra poi abbiamo i filetti di acciughe poi abbiamo il lonzino stagionato e una confezione di fighi d'india poi abbiamo preso lo scotex wow la nicola al deco sempre al deco carne macinata una confezione di latte scremato una bottiglina piccola di coca cola e l'offerta che abbiamo provato ancora delle guidoni le pizze queste qua guidoni abbiamo preso due confezioni una e e due se riesco e due ce l'abbiamo fatta questo è quanto per il momento ragazze al prossimo step ciao ragazze ciao ragazze bentornate sul canale altrospezione svuota la spesa al deco allora ho preso queste confezioni di acqua gaudianiello piccolina le bottigline piccoline da portare o emanuele a scuola oppure quando esco io in borsa che me la devo portare sempre poi confezioni di tè classico tè star poi tarallini al finocchietto un galvanino del grana padano grattugiato una passata star guattino guattino poi funghi champignon già tagliati una bottiglia di olio di semi di mais per friggere teneroni prosciuttini cotti poi due pepsi due bottiglie di pepsi una e due poi parmigiano un bel pezzo di parmigiano e infine pesto alla genoese della DQ per il momento è tutto al prossimo a step ragazze ciao 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 ragazzi un nuovo spezzone di video al Todis allora per prima volta due confezioni di due coca-cola confezioni queste qua da un litro e 35 luna poi i biscottini questi qua al cocco una bottiglia di latte parmalato buro blu poi dei kiwi poi delle delle mele un po' d'uva bianca delle bruschette alle olive delle banane altre mele noci noci delle percoche questi sono i lupini dei pomodorini dei pomodorini una confezione di carciofini a spicchi sott'olio delle pere e infine un cacciatore italiano il salamino piccolino questo è quanto ragazze al prossimo step ciao ragazzi tornate sul canale oggi un nuovo video sui dati della spesa a schizzone al dv e quindi abbiamo preso il pantalino a confezione grande poi dei salti in bocca sono raffreddatissima poi un po' di prosciutto crudo una confezione di latte puro blu parmalatte miele ambrosoli una pepsi una pepsi da un litro e mezzo poi una pepsi di pane una bottiglia di olio per friggere due bottiglie di olio per friggere due bottiglie di olio per friggere poi sono passati in farmacia arrivano inverno ragazze arrivano i raffreddori ho dovuto prendere la tachipirina e il frobel e vabbè poi barretta di cioccolata della parigina poi abbiamo preso il pollo delle deciletti di pollo poi ho preso il latte scremato abbiamo preso le piadine piadine poi un pacco di biscotti questi quasi secchi diciamo frullini una passata pommaro star salsicce queste sono di carne e tacchino tacchino e pollo e basta ragazze questo è per quanto riguarda questo spezzone al prossimo ragazze ciao ciao bentornate un altro spezzone svuota la spesa al todis allora abbiamo preso dell'uva bianca una passata pomilia delle trecine alle mandorle una confezione di sottilette classiche bruschetta rosmarino stickers del prosciutto orto pistacchi un po' di pomodorini un po' di pomodorini per coche banane delle mele delle arance limoni limoni una beciamella e una melanzana melanzana per il momento è tutto al prossimo step ciao ragazze ciao ragazze bentornati sul canale altro spezzone svuota la spesa siamo stati dal fruttilondolo panettiere e poi abbiamo visto qualcosa il super market sotto casa niente di di che allora una bottiglia di acqua san benedetto poi un pacco di scodax questi qua da due wow dei biscottini a pizza abbiamo preso tre pacchetti uno e altri due sono tre allora ci siamo fatti dare un po' di odori un po' di basilico bellissimo questo basilico poi banane delle banane poi delle mele delle pere e delle come si chiamano? per coche delle zucchine ok quindi dal panicchiere abbiamo preso alcuni trancetti di 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 manuele ha voluto prendere questi qua che sono tipologici dipende panettini full scura poi un pezzo di pane capriccio questo è quanto al prossimo ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.